Raga Avete sentito dell'ultima notizia Dell'attentato di Ciccio Gamer in Qatar Ma si È proprio un pazzo Un pazzo uomo Secondo me voleva andare a riprendere il suo pagore No ma io credo che sia stato Un movimento Fatto per vendetta nei confronti Del cornettaro Secondo me Che l'ha interrotto a modo GP Secondo me chi l'ha rubato l'altro Lo ammazza di botte Lo fracca di mazzate Ma va a trapiant Per cortesia Oshè Oshè Ma che cazzo Muori Tei biglasseri neri Oshè